Musica Prima di iniziare con il video vi ricordo che ho creato un nuovo canale su Telegram Dove troverete ovviamente il link in descrizione da questo video Niente, il canale verrà utilizzato solamente come spam per pubblicità dei miei video e news riguardanti i modi di GTA 5 online Quindi niente, se avete Telegram e avete scaricato nel mosto cellulare vi lascio il link in descrizione Mi raccomando ragazzi entrate, dobbiamo assolutamente arrivare intorno ai 3000 membri Detto questo, nulla, io non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Clix, oggi ragazzi sono qui finalmente i signori me ritornato con un nuovo video bomba Eccomi qua finalmente con un nuovo glitch E questo glitch ragazzi è nient'altro che praticamente una rivisitazione del glitch che vi ho postato Credo nella giornata di oggi Riguardante praticamente l'utilizzo del Save Wizard e del Save Editor Sarebbero due programmi per il computer Utilizzando questi programmi si possono creare veicoli moddati E vi ho fatto vedere appunto in quel video come poter portare questi tipi di veicoli online In questo video ragazzi principalmente come avete dato dal titolo sono qui per mostrarvi la nuova versione di GTA 5 Save Editor Ossia ragazzi il programma per creare i veicoli moddati E come avevo detto in quel video semplicemente c'era questa nuova versione di GTA 5 Save Editor Questa nuova versione permetteva di inserire le ruote Formula 1 all'interno dei veicoli Quindi sostanzialmente mettere le ruote Formula 1 già all'interno del veicolo che poi successivamente potremo portare online Molti di voi hanno votato positivamente nel sondaggio che vi ho chiesto Se appunto avreste voluto vedere un video su questa nuova versione di GTA 5 Save Editor E udite udite ragazzi questa versione finalmente è qui e vi andrò a mostrare tutti i propri particolari Nel caso non si fosse capito ragazzi sto parlando in live e voglio provare appunto a cambiare un po' con il format Cerco di un po' di variare una volta magari vi posto dei glitch in live Altre volte vi posto appunto la clip con il mio commento Vediamo un po' se riuscendo a parlare in live riesco a far durare il video meno Ed ora sostanzialmente quello che andremo a fare saranno più o meno gli stessi passaggi Anche perché c'è da considerare che ovviamente con la nuova versione di Save Editor Il funzionamento è lo stesso quindi noi potremo andare a creare il veicolo dal computer Con però le ruote Formula 1 Questa è l'unica cosa che cambia che nel nuovo aggiornamento di GTA 5 Save Editor è possibile Quindi se state utilizzando altre versioni del Save Editor ovviamente vi consiglio di disinstallare quelle che già avete E appunto di installare questa nuova Comunque si ragazzi prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando il vostro mitico pollicione in sub bomba che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti attivando la campanellina che trovate accanto al numero degli iscritti E soprattutto ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram e nel mio nuovo canale gruppo Telegram Di cui anche questi troverete il link nella descrizione Quello che andremo a fare in questo video sostanzialmente sarà lo stesso passaggio del glitch precedente Quindi vi andrò a mostrare anche appunto il glitch per fare l'SP2MP Perché ragazzi questo glitch SP2MP ci servirà a portare appunto questi veicoli online Altrimenti non potremo portare questi veicoli online e depositarli all'interno del vostro garage Ovviamente il mio consiglio è sempre lo stesso Usate veicoli della strada quindi i famosi veicoli dei civili Perché purtroppo come ho detto nel video precedente Comunque sia se non l'avete visto vi lascerò il link nelle schede Sono gli unici veicoli che riescono a passare durante il glitch E sostanzialmente questi veicoli dei civili Non avrete aver bisogno di usare altri glitch Come quello per depositare i veicoli all'interno del vostro garage Ossia il give car to friend Quindi il glitch per dare o ricevere i veicoli da vostri amici Ma appunto utilizzando veicoli della strada basterà se il glitch avrà funzionato Prendere il veicolo andare allo Santos Custom E dovete andare ad applicare il segnalatore e poi l'assicurazione Quindi nulla spero di essermi spiegato al meglio E possiamo subito partire a bomba La prima cosa da fare ragazzi sarà accendere la vostra console E dovrete andare su GTA 5 Quando andrete su GTA 5 dovrete andare su GTA Online Impostare il logo di rientro su Casuale Cambiare un accessorio al vostro personaggio E una volta fatto ciò ritornare all'interno della modalità storia Quando saremo ritornati all'interno della modalità storia Tutto quello che dovremo fare sarà semplicemente creare un salvataggio rapido Utilizzando appunto il cellulare O appunto creando un salvataggio Utilizzando uno dei tre personaggi non ha importanza Una volta che il nostro salvataggio sarà stato completato Quindi che avremo fatto il nostro salvataggio Semplicemente teniamo premuto il tasto PS E andiamo a chiudere l'applicazione Qui come vedete la tengo già chiusa Adesso quello che dovremo fare sarà munirci della nostra USB Perché appunto avremo bisogno di una pennetta USB Non importa che sia da 4GB o più grande Dove mettere il nostro salvataggio moddato Quindi una volta aver inserito la nostra USB all'interno della PS4 Quello che dovremo fare sarà andare nelle impostazioni E dovremo andare ragazzi in questa opzione Dove ci sarà scritto gestione dei dati salvati dell'applicazione Entriamo all'interno di questo menu Ed entriamo ragazzi sulla prima opzione Dove ci dice dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema Andiamo qui e andiamo semplicemente a copiare Nel dispositivo di archiviazione USB il nostro salvataggio Il nostro salvataggio dovrà essere questo qui Che sto cliccando io nel video Questo salvataggio praticamente da solamente 10MB e 49 Con il nome della missione Riportata la data, l'ora e appunto il peso del file Non dovremo copiare questo salvataggio Questo, questo oppure quest'altro Perché appunto quello che dovremo copiare Sarà semplicemente questo qui Che sto cliccando io nel video Quindi come riconoscere il vostro salvataggio? Semplicemente basterà controllare che accanto al nome Come vedete Grand Theft Auto 5 Non ci sarà altre scritte come dati salvati Come backup eccetera eccetera Una volta quindi aver trovato il nostro file Semplicemente lo andiamo a copiare all'interno della nostra USB Dovremo semplicemente a questo punto confermare Cliccando su questo bottone dove c'è scritto sì Io adesso non lo vado a fare perché Questo salvataggio che ho nell'hard disk della Play 4 Non contiene veicoli moddati Mentre quello che ho invece sulla USB ne contiene Quindi non andrò appunto a sostituire Voi invece ragazzi dovrete andare a sostituire Una volta che avrete sostituito Semplicemente uscite da questo menu E vi recate ragazzi su questa opzione Chiamata dati salvati nel dispositivo di archiviazione USB Entrate all'interno di questo menu E adesso ragazzi state fermi La vostra PS4 dovrà restare accesa In questo momento non vi servirà più A questo punto potremo passare al computer Per continuare a fare questo glitch Ed eccomi qua ragazzi finalmente sul computer Allora andremo a munire di questo programma Ossia GTA 5 Save Editor Incluso al Save Wizard Di cui troverete questi link Per scaricare questi programmi All'interno della descrizione In particolare questo video Vi andrò a mostrare appunto Come poter scaricare la nuova versione Di GTA 5 Save Editor Che contiene appunto Le ruote di Formula 1 Che possiamo applicare su tutti I nostri veicoli moddati Che successivamente andremo a portare online La prima cosa da fare sarà quindi Scaricare il Save Wizard Questo programma qui Che state vedendo nel video Dovrete ovviamente comprarlo Perché il programma non si può crackare Dovrete comprare la licenza da 60€ Per il semplice motivo Che vi servirà l'Advanced Mode Che nella licenza da 50€ Purtroppo non è compresa Quindi una volta aver comprato La vostra licenza Ovviamente se dovrete comprare Perché non sapete come funziona il Save Wizard Lasciate perdere Se invece avete già una licenza Da poter usare Usufruite di questo servizio Ripeto se dovete comprarla Lasciate perdere Perché non ne vale la pena Visto che fra qualche giorno Sicuramente questo glitch sarà appacciato Se invece avete una licenza Che magari anche in passato avete comprato E l'avete all'interno del vostro Save Wizard Allora a questo punto potrete continuare Fate quindi doppio clic Sul Save Wizard Per appunto aprire il programma E una volta fatto ciò Semplicemente Quello che succederà Sarà che il programma Andrà ad aprire appunto il Save Wizard Vi ritroverete con questa finestra Semplicemente andate a schiacciare Su questo pulsante Ok Adesso come vedete Ci caricherà praticamente Tutta la lista Dei giochi Che possiamo moddare Sostanzialmente Con il Save Wizard Ecco lasciamo caricare A questo punto E una volta fatto ciò ragazzi Che il Save Wizard Si sarà aperto Ci ritroveremo con questa finestra Quello che dovremo fare Sarà cliccare due volte Su questa cartella In particolare Dovremo andare a cliccare Due volte Su questa Praticamente Freccetta Che indica verso destra Vado quindi A cliccare due volte Con il mouse E come vedete Mi si apre tutta Questa finestra Ecco questa finestra Praticamente contiene Tutti i salvataggi Che all'interno Della USB Sono presenti Quindi semplicemente Appunto fate doppio clic E dovrete andare a trovare Il vostro salvataggio Il vostro salvataggio Verrà assegnato Con il nome di Current Game Progress Così come state leggendo Dal video E su Profile PSN ID Ci sarà appunto Il vostro profilo registrato Quindi se non avete Il vostro profilo registrato Semplicemente Andate sul Current Game Progress Dovrete essere sicuri Che il salvataggio Sia quello Effettivo Perché altrimenti Se come me Avete tanti salvataggi Non riuscite a capire Qual è il salvataggio Che dovrete utilizzare Di conseguenza Vi consiglio di cancellare Tutti questi salvataggi E di copiare Solamente il file Dal vostro profilo Così siete sicuri Che appunto Il sostanzialmente Profilo che andrete a registrare Sarà il vostro E non quello Di un altro account Presente sulla vostra PS4 Quindi come vedete In questo caso Io ce l'ho registrato Quindi sono abbastanza Sicuro che questo qui Sarà il mio salvataggio Che ho copiato Precedentemente Prima Dalla mia PS4 E voi dovete fare Appunto la stessa cosa Una volta quindi Che avete fatto questo Ripeto Se non avete il profilo Registrato Basterà cliccare su Current Game Progress Fate clic Destro con il mouse E qui ragazzi Ci sarà scritto Register Profile Quindi andate a registrare Il vostro profilo E il profilo verrà registrato In questa sezione Andando nelle impostazioni E andando su Profile Manager Come vedete Qui ci sono altri due account E qui appunto C'è la mia licenza Potremo anche cambiare Nome al nostro Praticamente profilo Registrato Sul Save Wizard Quindi una volta Aver registrato il profilo Semplicemente andiamo A selezionare Il salvataggio Che abbiamo copiato Precedentemente prima Dalla nostra PS4 Facciamo doppio clic Schiacciamo una volta Il clic destro col mouse E andiamo ragazzi A selezionare Questa opzione Chiamata Advanced Mode Quindi fate Ripeto Clic destro Sul Current Game Progress Registrato Al vostro nome E fate Advanced Mode Adesso Semplicemente Lasciate caricare L'Advanced Mode Ci vorrà un po' Per il caricamento Quindi ne approfitto Per parlare Per ricordarvi Di lasciare un mi piace A questo video E in descrizione Troverete tutti i file Necessari Per scaricare Questi programmi Ricordo che Il Save Wizard Purtroppo Non si può Craccare Quindi per cui Dovrete semplicemente Comprare il programma E basta Una volta che L'Advanced Mode Avrà caricato Come vedete Come avete visto Dagli altri video Vi ritroverete Con questa schermata Con tutti i codici Quello che dovrete fare In questa schermata Con tutti i codici Sarà praticamente Andare ad Estrarre Questo salvataggio Come vedete Current File SGTA500 Probabilmente Vi metterò Uno zoom Questo qui Appunto È il salvataggio Con tutti i codici Che si trovano All'interno Del nostro salvataggio Della storia Dovremo semplicemente Cliccare su questo pulsante Dove c'è scritto Export to File Andiamo a cliccare Quindi una volta E il computer A questo punto Ci farà scegliere La cartella Dove vogliamo Appunto Mettere il salvataggio Come vedete Io qui ce l'ho già Appunto nel desktop Sarebbe questo salvataggio Qui Che appunto È il mio salvataggio Che sono andato a fare Con l'Extract File Possiamo scegliere Questa cartella Possiamo scegliere Questa cartella Appunto Scegliamo una cartella Io lo andrò a mettere Nel desktop Quindi nello schermo Andrò appunto A mettere il file Faccio su salva E semplicemente Se vi chiede di sostituire Vabbè Voi sostituite In ogni caso Non vi chiederà la sostituzione Perché appunto Il file verrà esportato E basta Adesso Quello che vi consiglio È o di lasciare Questa finestra E ridurla A icona In questo modo Oppure semplicemente Andare a chiuderla Cliccando quindi Sulla X Come vedete Questi sono i codici Andiamo a cliccare sulla X E ci ritroveremo In questa schermata Adesso Il nostro salvataggio Sarà estratto Nel nostro computer Quindi questo Sarà il salvataggio Che andremo ad utilizzare Per appunto Inserire i nostri veicoli Moddati All'interno dell'impound Con tutti e tre i personaggi Sostanzialmente L'impound Sarebbe il deposito Rimozione forzata Per portare questi veicoli online Appunto Dovrete aver bisogno Solamente E per forza Di questo impound Quindi di questo Deposito Rimozione forzata Tutto molto semplice Adesso Inizia la parte Appunto Che molti di voi Stavano aspettando Allora Una volta fatto Questo procedimento Semplicemente dovrete Aprire il Save Editor Io in questo caso Come vedete Ho due versioni Quello che dovrete fare Semplicemente Se avete già Una versione di Save Editor Scaricata All'interno Del vostro computer Dovrete quindi andare A fare doppio clic Sulla Icona Quindi dovete andare Ad avviare Il programma Per scaricare La nuova versione Contenente I veicoli Formula 1 Quello che dovrete fare Sarà aprire Il programma E una volta fatto Ciò Ecco come vedete Ci apparirà Questa finestra Dove ci dirà Che praticamente È disponibile Un aggiornamento Per il nostro Save Editor Quello che dovremo fare In questa finestra A questo punto Sarà semplicemente Schiacciare sul tasto No Quindi schiacciamo Sul tasto No E una volta fatto Ciò Come vedete Ci si aprirà La versione Di Save Editor Quindi una volta Aver schiacciato Sulla finestra Chiamata No Il computer Ci aprirà Il programma Del Save Editor Una volta che il programma Si sarà aperto Come vedete In questo momento Nel video Ci ritroveremo In questa schermata Per installare La nuova versione È veramente molto semplice Una volta che avremo Rifiutato Di voler fare L'aggiornamento E ci ritroveremo In questa schermata Dovremo semplicemente Schiacciare su questa X Per appunto Chiudere Il Save Editor Adesso andate Semplicemente A cancellare I collegamenti Presenti nel desktop Andate nelle impostazioni Del vostro computer E andate Praticamente A disinstallare Appunto Il programma X Del GTA 5 Save Editor Quindi basterà Andare su App Quindi entrare Nelle impostazioni Andare su App E andare A trovare Il programma Sostanzialmente Chiamato Save Editor Quindi GTA Save Editor Adesso Se ce la fa Caricare Ecco come vedete Cercando GTA Qui ci sarà La versione Come vedete Del GTA 5 Save Editor Io in questo caso Ce l'ho aggiornata All'ultima versione Che è appunto Quella per inserire Le ruote Formula 1 Voi vi ritroverete Qui un'altra versione La quale appunto La dovete andare Ad aggiornare Quindi semplicemente Schiacciate sul tasso Disinstalla E andate appunto A disinstallare Il Save Editor Io in questo caso Lo faccio con voi Nel video Quindi semplicemente Andate a disinstallare Il programma E dovrete appunto Aspettare Che il programma Venga disinstallato Ci vorrà un po' Per la disinstallazione E dovrete appunto Semplicemente Aspettare Aspettate quindi Che sostanzialmente Il programma Venga disinstallato E come vedete Appunto Qui ci dirà Sei sicuro Di voler cancellare GTA Save Editor Schiacciate sul pulsante Si Perché appunto Dovrete andare A disinstallare La vecchia versione Che vi trovate All'interno del computer Sostanzialmente Una volta fatto ciò Quindi confermate Semplicemente E vabbè Qui lasciate perdere E la nostra app Come vedete Verrà disinstallata Adesso Quello che dovremo fare Sarà semplicemente Aprire il link In descrizione E il link In descrizione Vi riporterà A questa pagina Come vedete In questa pagina Ci sarà Il link Ufficiale Possiamo dire Per scaricare Il nostro Save Editor Dovrete quindi Andare a schiacciare Su questo pulsante Dove c'è scritto V3000 E praticamente Questa pagina Vi riporterà Su questa pagina Di Mediafire Dovrete andare A cliccare Sul pulsante Questo qui Di download Il computer Vi farà scaricare Il download Infatti Come vedete Io ce l'ho già qui pronto XB36 Hazard Installer Ed è quello che ci servirà Ci farà praticamente Scaricare un file Zip Noi dovremmo avere Winzip O Winrar Per appunto Estrarre questo file Quindi come vedete Qui è come l'ha scaricato Aspettate quindi Che il download Venga completato Una volta fatto ciò Semplicemente Portate il file Nel desktop Come sto facendo io In questo momento Nel video Quindi lo portate Nel desktop E ci ritroveremo Con questo file Tutto quello Che dovremo fare Sarà selezionare Il file Fare clic Destro Sostanzialmente Ed schiacciare Su Estrai Qui Una volta che avremo Estratto Il nostro archivio Ci ritroveremo Come vedete Questo programma Questo programma Sarà appunto Il programma Dal quale Andremo ad installare Il save editor Versione aggiornata La quale versione Conterrà le ruote Formula 1 Quindi semplicemente Adesso dovete andare a fare Clic destro Su questa icona E andare a fare Esegui come amministratore Quindi confermate qui Quando ve lo chiederà E semplicemente Ci si aprirà Questa finestra Dovete aspettare Semplicemente Che venga caricata Quando la finestra Verrà caricata Come vedete Ci saranno Tutti questi Save editor Quello che ci interesserà A noi sarà Ovviamente GTA 5 Save editor Questo qui Quindi andiamo A schiacciare Sul tasto install Poi ci sarà Questa finestra Dovremo semplicemente Confermare E tutto quello Che dovremo fare Adesso sarà Aspettare Che appunto Il nostro Save editor Verrà scaricato Ricordo che per Fare questi veicoli Moddati Con le ruote Formula 1 Per mettere le ruote Formula 1 Sui vostri veicoli Moddati Dalla storia Per poi portarli online Dovrete aver bisogno Del save wizard Quindi il vostro Profilo registrato Eccetera eccetera Come anche Appunto Questo save editor Versione Aggiornata All'ultima versione Ossia La 2.9.0.0 A questo punto Quindi dovrete Semplicemente Aspettare Che il download Venga completato E una volta Ragazzi Che il nostro Download Sarà completato Ci ritroveremo In questa schermata Del setup Quello che dovremo fare In questa schermata Sarà semplicemente Cliccare su next Cliccare qui Ancora una volta Su next E infine install E a questo punto Il nostro programma Del save editor Verrà scaricato Correttamente Come vedete Ci metterà circa Due secondi Per installarlo Lasciate qui Attiva la spunta Launch gta save editor Ossia Avvia Programma save editor E qui andate a schiacciare Sul tasto finish Come vedete È veramente molto semplice Ragazzi Installare questo save editor Per quanto riguarda Invece il save wizard È più o meno Lo stesso procedimento Solo che invece Che andare praticamente A scaricare Il file zip Andrete a scaricare Un file .exe E anche lì fate Doppio click E segui come amministratore E appunto Installate anche Il save wizard Una volta Fatto ciò Il save editor Si andrà ad aprire E appunto Ci ritroveremo In questa schermata Lasciate qui Caricare Il save editor Ci vorrà un po' Una volta che Il nostro caricamento Sarà finito Come vedete Ci ritroveremo In questa nuova schermata Che è appunto La schermata Dell'aggiornamento Della 2.9.0.0 Se vi ricordate Prima Il save editor Avreva solamente San Andreas GTA 4 E GTA 5 Mentre invece Ci sono tutte queste Nuovi titoli Appunto Che possiamo Moddare Quello che ci servirà A noi sarà Ovviamente Selezionare Sull'icona di GTA 5 Una volta Aver cliccato Sull'icona di GTA 5 Ci ritroveremo In questo menu Quello che dovremo fare Adesso sarà Semplicemente andare A cliccare su Open file E dovremo appunto Aprire Il file Questo qui SGTA 0000 Insomma Quello che abbiamo Esportato precedentemente Dal save wizard Facendo appunto L'advanced mode Quindi questa qui L'advanced mode Poi aver fatto L'extract file Ecco Il open file Vuol dire Il file Che abbiamo importato Precedentemente Dalla nostra usb Al nostro schermo Del computer Quindi questo file qui Andiamo quindi A cliccare due volte Sul file E a questo punto Ti si aprirà una finestra Dove ci chiederà Se vogliamo fare Il backup Io di solito Non lo faccio mai Voi se volete Fatelo Nel caso magari Qualcosa vada storto Appunto avete La copia di backup Senza veicoli moddati Avrete la copia Diciamo di emergenza Una volta che il file Si sarà aperto Come vedete Ci ritroveremo In questa schermata Dove ci sarà Il personaggio corrente Qui potremo mettere L'invincibilità Potremo mettere I soldi al massimo Del personaggio In modalità storia Potremo mettere Il livello di sospetto Le abilità al massimo Potremo modificare Il nostro telefono Come vedete Poi anche il tempo L'ora Eccetera 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 Come anche le armi Mettere anche le modifiche Alle armi Insomma Ecco non ci interessa Però questa cosa Quello che dovremo fare Sarà semplicemente Andare a cliccare Con il mouse Su garage E una volta fatto ciò Il programma Andrà a caricare La lista di tutti I veicoli presenti All'interno del gioco Ci ritroveremo In questo menu E come vedete Qui in alto a tutto Abbiamo ovviamente Il personaggio Il quale potremo Inserire veicoli moddati Fra cui Franklin Michael O Trevor Quello che dovremo Andare a fare Sostanzialmente sarà Se vogliamo portare Più veicoli moddati Dovremmo mettere Due veicoli Nell'impound di Franklin Due veicoli Nell'impound di Michael E due Nell'impound di Trevor Oppure Appunto Se vogliamo portare Solamente due veicoli O comunque pochi veicoli Dovremmo mettere Appunto Un veicolo Nell'impound O comunque due veicoli Nell'impound di Franklin E due veicoli Nell'impound di Michael Vi ricordo che L'impound Vuol dire Deposito Rimozione forzata L'opzione che abbiamo Nella modalità storia Dove si trova La stazione di polizia Che noi andando lì Premendo freccia destra Possiamo appunto Recuperare questo veicolo Sequestrato Sostanzialmente Qui in alto ci sarà La lista dei personaggi Cliccando qui invece Con il mouse Accanto praticamente Al nome del personaggio Della storia Ci sarà Il garage L'hangar Della storia Come anche L'heliporto E comunque La propria auto Di Franklin Come vedete Ecco Sostanzialmente Qui c'è Praticamente Il luogo Dove possiamo Mettere Appunto I veicoli Moddati Andando quindi A cliccare Sull'impound Qui come vedete Io ho già Appunto Una macchina Moddata Andando invece A cliccare Qui sulla terza Spunta In alto a tutto Potremo scegliere Due veicoli Da mettere Nell'impound Quindi questo Sarà il primo Veicolo E questo sarà Il secondo Veicolo Che appunto Potremo recuperare Nell'impound Quindi il deposito Di rimozione forzata Online Quando andremo a fare Appunto Il glitch Quindi dovremo Selezionare Un veicolo Per cambiare Il nostro veicolo Basterà semplicemente Cliccare qui Come vedete Ci sarà tutta la lista Dei veicoli Presenti nel gioco Come ripeto Per portare i veicoli Online Vi consiglio Principalmente Di mettere Appunto I veicoli Dei civili Perché altrimenti Se portate I veicoli Super O comunque Sportivi A parte che Le auto Non potranno passare Avrete difficoltà A depositare Ecco questo Veicolo All'interno Del vostro garage Perché se passerà Il veicolo Online Dovrete andare Appunto A fare un altro Glitch Di cui vi lascerò Il link Nelle schede Qui in alto A destra Sarebbe il glitch Del give card To friend Ne ho anche Parlato All'inizio Del video Qui come vedete Possiamo mettere La nostra targa Possiamo mettere Dei numeri Degli zeri Possiamo fare La targa Fantasma Semplicemente Quindi tutti gli hashtag All'interno Della targa Ecco andremo a Creare in questo modo La targa Fantasma Customization Praticamente potremo Applicare i paraurti Gli spoiler La livrea I cofani E quant'altro Insomma qui ecco Potete andare a Modificare il vostro Veicolo senza quindi Dover spendere soldi Nella modalità Online se riuscirete A passare il veicolo Abbiamo poi qui I colori Come vedete Abbiamo l'oro segreto Che sarebbe appunto Il famoso secret gold Che si chiama MP100 gold special Ecco questo qui È un oro segreto Se vogliamo magari Applicare colori a 4D O comunque colori warn Basterà selezionare Un colore primario Una perlescenza Un colore secondario E questo custom color E in questo modo appunto Potremo creare Colori molto molto unici Quello che ci interesserà A noi ovviamente Oltre vabbè a mettere La targa di North Yankton I finestrini verdi Il fumo a tre colori Cliccando su questa opzione Possiamo come vedete Andando su wheel type Possiamo mettere ragazzi Le ruote di formula 1 Infatti come vedete Potremo scegliere Il tipo di ruota Quindi in questo caso Formula 1 Poi possiamo scegliere Ovviamente il design Quindi praticamente Il design dei pneumatici Quindi mettendo la scritta Rossa Fukaru Oppure gialla Che palle Green Che palle Insomma tutte queste cose Io le andrò a lasciare verde E qui su front wheels Quindi sostanzialmente Ruota anteriore E ruota posteriore Potremo come vedete Scegliere le ruote Come vedete Di formula 1 Che queste ruote Normalmente non possiamo Applicare nel gioco Finché non verranno rilasciati Appunto i veicoli formula 1 Quindi sostanzialmente Quello che andremo a fare In questo programma Sarà ad inserire Queste ruote moddate Direttamente dal computer Modificarle Come anche mettere Un colore Appunto moddato Ai nostri cerchioni Io in questo caso Andrò a scegliere Queste qua Le style 8 carbon Che mi ispirano Veramente tanto E una volta che abbiamo Finito di moddare Il nostro veicolo Possiamo ovviamente Anche moddare Il secondo Quindi in questo caso Io andrò a Non lo so Mettere un Un design bianco qui E altre ruote Formula 1 qui Queste qua vanno bene Dai queste qui vanno bene Una volta che quindi Avremo finito di Praticamente creare Il nostro veicolo moddato O comunque i nostri veicoli moddati Con le ruote formula 1 Tutto quello che dovremo fare Sarà andare a cliccare Su save file Come vedete Una volta fatto ciò Il file verrà salvato E ora dovremo andare a Cliccare su close file Andiamo quindi a Chiudere il file E praticamente adesso Questo salvataggio Che stare vedendo in questo momento Quindi questo file Di salvataggio Conterrà I due veicoli moddati O comunque i nostri veicoli moddati Che avremo deciso di creare Dal computer Che successivamente Andremo a portare Su GTA Online Quindi quello che dovremo fare Adesso sarà Praticamente ridurre A icona GTA 5 Save Editor Io qui l'ho già fatto Dovremo ritornare Praticamente sul Save Wizard Dovremo quindi Andare a fare Lo stesso procedimento Quindi facciamo Doppio clic su questa cartella In questo caso Qui in fondo A tutto a sinistra E andiamo quindi A selezionare Il nostro salvataggio Con il nostro profilo Quindi appunto Il current game progress Facciamo clic destro Sul file E facciamo Advanced mode Cliccando quindi Clic destro sul file E poi cliccando Col clic sinistro Su Advanced mode Andiamo quindi di nuovo Ad aprire l'Advanced mode Ovviamente ci vorrà Un po' per il caricamento E una volta fatto ciò Quello che vi ritroverete Sarà questa finestra Con tutti i codici Ancora una volta Penso che ormai Questa Advanced mode Ragazzi Abbiate imparato E capito come funziona Quindi una volta Che avrete riaperto L'Advanced mode Dovete semplicemente Adesso Attenzione Non cliccare su export to file Ma cliccare su questo pulsante Come vedete Dove ci sarà scritto Import file Quindi sostanzialmente Dovremo andare a importare A questo punto Il salvataggio Come vedete dal desktop Dal desktop Quindi dal computer Portarlo all'interno Della nostra USB Tramite questa opzione Dell'Advanced mode Quindi andiamo appunto Ripeto Ve lo faccio di vedere Andare a cliccare su import file Il pulsante Qui in fondo ha tutto A questo punto Il computer ci andrà Ad aprire la cartella Dove dovremo Sostanzialmente andare A selezionare Il file Del salvataggio Quindi io Come vedete Ce l'ho qui nel desktop Vado quindi a Fare doppio click Su questo file Quindi SGTA Con tutti gli zeri Faccio quindi Doppio click E rimarrò Con questa finestra Come vedete Aperta Adesso Dopo che avrete fatto Doppio click Sul file Dovrete a questo punto Schiacciare il tasto Zero Della tastiera Come vedete Io ho schiacciato appunto Il tasto zero Una volta che avremo Schiacciato il tasto zero Ci sarà questa opzione Questa finestra Possiamo dire Chiamatela come volete Dove ci dirà Che praticamente C'è stato un errore Tranquillissimi Il glitch sta funzionando E il vostro salvataggio È tutto a posto Non c'è niente di sbagliato Dovrete semplicemente Andare a chiudere Questa finestra Cliccando quindi Sulla X E una volta fatto ciò Vi ritroverete di nuovo In questa schermata Con tutti i codici Andate quindi A questo punto A cliccare su apply E come ultimo passaggio Semplicemente Andate a confermare A questo punto Il save wizard Farà un piccolo caricamento E alla fine Di questo piccolo caricamento Semplicemente Ragazzi Boom Il nostro salvataggio Verrà importato Correttamente Alla nostra USB Quindi quello che dovremo fare A questo punto Sarà appunto Prendere la USB E andare a riportarla All'interno della nostra PS4 Come vedete appunto Una volta che il caricamento Sarà finito Ci sarà questa finestra Dovremo semplicemente Andare a confermare Quindi schiacciando Sul pulsante ok La finestra Dove ci dirà Che la modifica È stata applicata Con successo Adesso semplicemente Chiudiamo il save wizard E tutto quello che dovremo fare Sarà estrarre La nostra USB Facendo la rimozione sicura Quindi andiamo ad Estrarre appunto La nostra USB Dal computer Adesso Semplicemente Quello che dovremo fare Sarà prendere La USB Riportarla All'interno della PS4 Copiare il salvataggio Dalla USB All'interno della PS4 Avviare il salvataggio Andare nella modalità storia Per prima cosa Questo è un consiglio Che vi do Per andare a controllare Se effettivamente Il tipo di mod Vi piace O non vi piace Se il tipo di mod Vi piace Potete portarla online Altrimenti Se non vi piace Semplicemente Chiudete il gioco Ricopiate il salvataggio Lo riportate sul computer E appunto Lo andate a rimoddare Di nuovo Utilizzando il save editor Una volta quindi Fatto questo Dovremo trasferirci Sulla nostra PS4 Ok Eccoci qua finalmente Sulla nostra Play 4 Ebbene Tutto quello che dovremo fare Adesso Una volta Aver inserito La nostra USB All'interno Della nostra PS4 Quello che dovremo fare Sarà andare a Copiare questo salvataggio Presente nella USB All'interno Della memoria Del sistema Quindi semplicemente Ritorniamo sull'opzione Gestione dei dati salvati Dell'applicazione Andiamo a questo punto A selezionare X su dati salvati Nel dispositivo Di archiviazione USB Dovremo andare Sull'opzione Copia Nella memoria Di archiviazione Del sistema E dovremo Semplicemente Entrare in questa cartella E come vedete Ci sarà Il file Che abbiamo Precedentemente Esportato E moddato Quindi il file Dove all'interno Sono presenti I nostri veicoli Moddati Con le ruote Formula 1 Quindi semplicemente Adesso andiamo A copiare Il salvataggio All'interno Della nostra Memoria Della PS4 Andiamo quindi A schiacciare X su questo Bottone Dove ci dirà Applica tutto E andiamo quindi A confermare Una volta Che il nostro Salvataggio Sarà stato copiato Dovremo semplicemente A questo punto Avviare l'applicazione Di GTA 5 E recarci All'impound Quindi al Deposito Auto Utilizzando Utilizzando Questo programma Però su altre Console Mi dispiace Ragazzi Questo glitch Funziona solamente Per PS4 Purtroppo Per gli altri Possessori Non posso fare Niente Anche perché Non esiste Un programma Di modding Quindi se state Cercando veicoli Moddati Su Xbox One Dovrete per esempio Cercare chi ne possiede E di conseguenza Farveli passare Invece su PS4 È veramente molto semplice In quanto Appunto Basterà Avere comprato La licenza Del Save Wizard E una volta Fatto ciò Con questa licenza Potete fare tutto Quello che volete Perché appunto Se ci pensate Sul Save Editor Potete creare I vostri veicoli Esclusivi Con la vostra targa Ligorosamente Di North Yankton E quant'altro Quindi insomma Questo programma Ha veramente Molte mod particolari Che appunto Vi consiglio Di provare Il salvataggio Accaricato Come vedete Mi trovo io Con Franklin Vicino all'Inpound L'Inpound Ripeto Sarà il deposito Di rimozione forzata Questo qui Che state leggendo In questo momento Nel video Questo qui appunto Ragazzi È il deposito Di rimozione forzata In inglese Chiamato Inpound Dovremmo creare Un salvataggio rapido Come già detto All'inizio Per fare in modo Che appunto Ci ritroveremo qui Senza usare trucchi Per arrivare In questa posizione Ecco come ho fatto Io nel video Vi consiglio Di creare Il vostro salvataggio Rapido Praticamente Vicino all'Inpound Una volta Fatto ciò Semplicemente Andremo a Controllare Se le nostre Effettive mod Quindi i nostri Veicoli moddati Sono passati correttamente Quindi ci richiamo All'Inpound Premiamo freccia Destra E come vedete Ragazzi Potremo selezionare Tutti e due I veicoli Che abbiamo precedentemente Portato dal computer Se vi ricordate Io avevo messo Come primo slot La Reiner E al secondo slot La Fudo Quindi andiamo a scegliere La Reiner La porta si aprirà Ragazzi E come potete vedere Boom Ci ritroveremo Il nostro veicolo Moddato Con le ruote Formula 1 Come potete vedere Ragazzi Anche il contorno È veramente particolare Si tratta di questa Verniciatura Il Secret Gold Mischiato Ad altri colori Quindi vuol dire Che la nostra mod È stata passata Correttamente Come vedete Anche la targa fantasma Quindi mettendo Tutti gli hashtag All'interno della targa Andrete appunto A creare La targa fantasma Il nostro veicolo A questo punto Sarà qui pronto Potremo esportarlo Su gt online Ovviamente Il mio consiglio È quello di provare Anzitutto a vedere Se il veicolo Che avete esportato Vi piace Quindi quello Che avete creato Dal computer Perché se vi piace Potete portarlo online Altrimenti ragazzi Se non vi piace È inutile portare Appunto una mod Che non vi piace All'interno di gt online Andiamo quindi A controllare anche L'altro veicolo Per vedere se Si è salvato Effettivamente Premiamo fleccia destra Ragazzi Come potete vedere Entrando all'interno Boom Abbiamo Anche questo Questo è bellissimo Ragazzi Questa mod è bellissima Abbiamo come vedete La nostra carinfuto Con i cerchi Della formula 1 Sostanzialmente Quindi vuol dire Che tutte le mod Sono passate Infatti Come vedete Entrambe le auto Ragazzi Hanno le rotte formula 1 E queste rotte formula 1 Le abbiamo messe Dal programma Del save editor Quindi adesso Semplicemente Se vogliamo portare Questi veicoli online Ci basterà quindi Eseguire il glitch SP2MP Quindi vi lascerò Il video nella descrizione Se non sapete Come farlo In ogni caso È veramente molto semplice E arriverà anche un video A riguardo Appunto di quella Versione Nel senso Farò un video Aggiornato Su come poter Eseguire al meglio Appunto Il glitch SP2MP Come vedete Anche questa foto Ha colori Veramente particolari E insomma Ci basterà a fare Questo procedimento Quindi portare Il salvataggio All'interno Della nostra USB Poi Prendere la USB Portarla all'interno Del save wizard Chiacciare sull'advanced mod Estrarre il file E appunto Andare A continuare A provare Altri tipi di mod Altri tipi di colori E successivamente Impostare le ruote Formula 1 All'interno Dei vostri Veicoli Ovviamente Come vedete Sono veicoli Moddati Ciò significa Che se Andrete Ad Praticamente Applicare Questa mod All'RC bandito O comunque Ad altre mod Appunto La mod Passerà E con sé Passeranno Anche i veicoli Appunto Con le ruote Di Formula 1 Quindi insomma Questo è il tutorial Ragazzi Dettagliato Su come poter Usare la nuova Versione di save Editor E quindi Di mettere le ruote Formula 1 All'interno dei vostri Veicoli Moddati Quindi ripeto Se vorrete adesso Esportare questi veicoli Suggetti online Dovrete semplicemente Aver bisogno Di eseguire Il glitch SP2MP E un'altra cosa Prima di iniziare Per far funzionare Al meglio Il glitch SP2MP Quello che vi consiglio È di praticamente Caricare la partita Anzitutto Premendo il menu di pausa Andando poi su partita Facendo carica partita E andando a caricare L'ultimo salvataggio Quindi il salvataggio Che contiene I veicoli moddati Una volta che la partita Avrà caricato Semplicemente ci ammazziamo Con il nostro personaggio Una volta fatto ciò Come in questo modo Una volta fatto questo Potremo quindi Iniziare il nostro glitch SP2MP Ci tengo a ribadire Un'altra cosa Se nel caso Riusciste a passare Solo pochi veicoli All'interno del vostro Account di GT online Potrete Ovviamente Ricaricare il salvataggio E rifare il glitch Per continuare a portare Gli altri veicoli Che precedentemente Appunto non sono passati Mentre invece se riuscite A passare molti veicoli E solamente alcuni di questi Non passeranno Vi consiglio di tenere I veicoli Che non sono passati E successivamente Appunto creare Altri tipi di mod Successivamente Quindi portare Questi tipi di mod online Quindi ragazzi Nulla detto questo Io direi che per questo video Può essere tutto E ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Spero che questo Tutorial Barra Spiegazione Del glitch Su come Mettere le ruote Formula 1 Su tutti i veicoli Dal computer Vi sia stato utile Vi sia piaciuto Mi raccomando ragazzi Big like di supporto Che a me fa veramente Tanto piacere E soprattutto ragazzi Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Seguitemi su Instagram Nel mio nuovo canale Gruppo Telegram Di cui anche questi Troverete il link Nella descrizione Qua da Cricks È tutto ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci si becca Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Come al solito Bella Ciao a tutti